quest'anno risparmi e cresci in totale tranquillità l'estate sembra lontana ma prenotare oggi conviene e vediamo perché se prenoti prima potrai ottenere diversi vantaggi ad esempio un risparmio sulle quote di partecipazione fino a 320 euro a seconda del paese che intendi visitare certificare il tuo livello linguistico è oggi sempre più importante per questo abbiamo deciso di includere la certificazione di alcuni dei più prestigiosi enti cambridge esb ma non finisce qua da quest'anno la vacanza studio study tours si allunga di cinque settimane essi hai capito bene prima di partire potrai seguire un corso con i nostri docenti madrelingua per prepararti al meglio ed arrivare pronto per iniziare il tuo soggiorno tranquillità è quello che vogliamo regalarti capisco che nel programmare oggi un viaggio così lontano potresti pensare ma quanti imprevisti e cambiamenti potranno esserci hai ragione ma non ti preoccupare abbiamo trovato la soluzione grazie alla nuova garanzia zero imprevisti potrai cancellare in qualsiasi momento senza pagare nessuna penale anche solo se cambi idea adesso non rimane che l'imbarazzo della scelta buon viaggio ciao Grazie a tutti.